andiamo quindi a inserire gli splash e dalla tab di hybrido abbiamo la possibilità di creare gli splash in realtà abbiamo la possibilità di creare anche gli splash e la foam nello stesso identico momento oltre a anche altri elementi che però per ora lasciamo perdere e ci concentriamo principalmente sulla splash ok perché io preferisco farli separatamente per una questione anche di leggerezza in fase di calcolo o comunque per il fatto che magari possiamo anche a quel punto andarli a trattare separatamente senza senza problemi quindi creiamo un clicchiamo su splash cliccando su splash vediamo che in automatico viene aggiunto al nostro hub per sicurezza lo colleghiamo al nostro domain ok in questo modo anche se collegandolo direttamente all'hub praticamente va già a interagire con tutto ok però potremmo collegarlo al domain per sicurezza togliamo comunque la nostra andiamo ad agganciarci il nostro safe area per sicurezza sul domain in questo caso e poi lasciamo anche tutto il resto perché comunque tutto il resto sarà interessato possiamo anche vedere le varie relazioni che ci sono tra i vari elementi se clicchiamo su show questo pulsante qui show implique links sostanzialmente ci fa vedere anche tutti i vari link che ci sono oltre a quelli che vediamo già intorno ai nostri elementi vediamo che di fatti il nostro splash sostanzialmente va a interagire con tutti i nostri demon che abbiamo qui e con tutti i vari elementi in questo modo riusciamo a capire bene come stanno lavorando però in ogni caso in ogni caso noi se lo agganciamo all'hub siamo sicuri che sta lavorando anche con tutti gli elementi che sono agganciati all'hub ok in questo caso è quasi inutile anche andarlo a unire con il nostro domain però va unito con sicuramente con questo nostro daemon che abbiamo separato perché agisce solo separatamente e qui i vari vediamo le varie impostazioni che abbiamo le varie impostazioni possiamo creare le particles in maniera dumb quindi in maniera elastica oppure con le standard liquid particles oppure con il liquid hybrido liquid hybrido sostanzialmente andrà a creare come un domain infatti se andiamo a scegliere hybrido vediamo che lui mi dà direttamente le cell sites ok quindi possiamo impostare un cell sites come avevamo impostato nel nostro domain che nella nostra griglia che abbiamo qui è più veloce però non è molto preciso nella realizzazione delle nostre particles ok e si preferisce comunque andare a lavorare non tanto con liquid hybrido però possiamo anche utilizzare liquid hybrido ma direttamente con lo standard liquid particles in questo modo possiamo anche dare quello che non potevamo fare precedentemente dare anche una surface tension ok una surface tension che volendo potremmo dare un piccolo lavoro per esempio di 5 così siamo sicuri che avremo un minimo di interazione anche della nostra surface tension e poi abbiamo qui la parte che riguarda la creazione degli splash la creazione degli splash in questo caso quanti in base a un rate quindi in base a un fps quanti ne vengono emessi in base a questo rate l'angolo della soglia di angolo quindi come vengono considerati gli angoli di creazione la curvatura la velocità la vortistic stretch la soglia di quello che viene creato intorno quindi quello che viene creato intorno viene preso e la posizione la variazione della posizione la variazione dell'angolo e la variazione della velocità la variazione del in più potremmo creare anche dei secondari splash quindi degli splash aggiuntivi ma che vanno praticamente a rimbalzare ma sono spesso sono eccessivi ok e allora quindi cosa possiamo fare di tutto questo quello che ci interessa maggiormente è sicuramente l'emission rate il mission rate in questo caso 30.000 è molto basso possiamo portarlo a 300.000 ok portandolo a 300.000 magari la nostra simulazione impiegherà molto più tempo però sì possiamo lasciarlo a 300.000 l'angolo la soglia di angolo di come vengono creati 45 va benissimo diciamo che di default questi parametri sono già ottimizzati per lavorare al meglio quindi sostanzialmente 45 va più che bene quello che potremmo variare variare leggermente è la posizione la variazione della posizione possiamo dare 1.15 1.2 per non esagerare troppo magari 1.15 che è la variazione in base a come viene creato ok quindi diamo un po' una variazione minima di questa nostra creazione questi sono però molto importanti quando si lavora con l'emission rate perché l'emission rate sostanzialmente va a dare molti più anche la sophistication magari potremmo dare un valore diverso no lasciamo 5 perché non voglio che sia troppo aggressiva ok e poi vabbè visibili visibili come punti come colore possiamo dare lasciare un bianco poi vedremo il tutto queste sono fasi di come vengono visualizzati diamo un'esportazione non solo in rcp ma diamo anche un particle bin ok solo per una questione di sicurezza anche se poi in realtà noi in questo caso andremo a creare la mesh quindi potremmo anche evitare di avere il bin il bin lo potremmo utilizzare se volessimo poi creare una mesh separatamente quindi non proprio in abirido mesh ma crearla separata ma magari mettiamola potrebbe essere tornare utile in fase di calcolo questa operazione che facciamo qui dell'export è la stessa che sostanzialmente possiamo fare dall'export central scegliendo il nostro splash e mettendo il check su sostanzialmente particle cache dot bin ok è la stessa identica operazione che possiamo avere lì una volta impostato in questo modo quindi molto semplicemente sostanzialmente questo va a dare una risoluzione quindi va a dare anche un più e alto però oltre 300.000 solitamente non si da mai più poi dipende dai casi più particles comunque di splash andremo ad avere andiamo a salvare per sicurezza ricordiamoci di mettere in cache il nostro domain e i nostri emitter e andiamo e andiamo quindi una volta che abbiamo fatto questa operazione siccome questo lo possiamo calcolare ora il frame 0 non mi prende il mentre al frame 1 si non mi prende il mio perché di fatti la mia simulazione inizia al frame 1 quindi potremmo mettere dal frame 1 al frame 96 la mia simulazione una volta che abbiamo messo in cache il tutto ricordiamoci qui di poter riattivare il command line perché utilizzando di fatti lo standard liquid particles siamo sicuri che viene fatto tramite il command line quindi adesso noi poi riavremo sia le particles in splash sia in formato rpc e sia in formato bin ok adesso saldiamo e lanciamo la simulazione grazie a tutti Grazie.